Amiche miei, amici miei, buon pomeriggio, buon sabato pomeriggio, sono entrata solo un attimino, mi sono fermata a macchina, sto entrando al lavoro, sto facendo un sacco di straordinari, veramente, sono stra felice, stra contenta, ma sono un po' stanchina, infatti, non ho tempo neanche di fare video, cucinare, insomma, sono stanca, sì, e poi le medicine che sto prendendo, come sapete, per la mia ovo donazione, che sarà tra poco, un po' che non mi stancano, ma sono contenta, lunedì farò la prima ecografia, vi terrò informati per come vanno le cose, io vi volevo augurare davvero un splendido fine settimana, augurarvi meglio del meglio del meglio, la serenità nel cuore, trascorretelo con chi vi parli, basta che voi state bene. Ringrazio tutti i miei nuovi iscritti, le mie nuove iscritte, mi fa molto piacere, a voi non costa niente, a me invece mi fa piacere davvero di cuore, perché questo canale l'ho, diciamo, aperto, proprio per raccontarmi, senza trucco, senza inganno, così come sono. Sicché mi fa molto piacere quando, insomma, mi sostenete con un mi piace, con un commento, condividete i miei video se vi fa piacere. Io vi abbraccio uno a uno, veramente a tutti voi, vi auguro il meglio, vi auguro la serenità, che è la cosa più importante, spero di tornare con qualche video, con qualche ricettina, vi mando un caloroso, un caloroso, un caloroso abbraccio e buon weekend. Godetevi i momenti, la vita è una sola ed un attimo, un attimo passa e non ce ne accorgiamo, non lo sprecate dietro alle rabbie, alle cose magari negative, alle persone che non meritano, apprezzatevi di più, voletevi bene, lasciate andare via le cattiverie, magari il rancore che avete dentro per qualcuno, per qualcosa, io ne so qualcosa perché pertanto ho vissuto con rancore dentro e sono stata male, lasciatelo andare, vivete, vivete davvero, vedrete che una volta lasciate andare via le cose negative, il rancore, rinascerete e ve lo dice una che per anni ha vissuto con il rancore, per magari qualche persona che mi ha fatto del male, invece ora auguro solo il meglio, bene, tanto il destino farà il suo corso, ognuno avrà quel che si merita e noi godiamoci la vita, godiamoci la vita, le cose belle e niente, amiche miei, amici miei, veramente mi ha fatto piacere salutarvi, augurarvi un buon weekend e spero a lunedì di fare un video, di darvi buone notizie e niente, grazie di vero cuore.